Ben trovati all'edizione della notte del TG6, in apertura la pagina dedicata alla sanità regionale. Partiamo dalla conferenza stampa tenutasi questa mattina a Pescara da parte dell'intersindacale sanitaria abruzzese per denunciare i problemi sulle politiche della salute nella regione Abruzzo. Sentiamo. Noi fondamentalmente contestiamo il fatto che sono state individuate nuove figure professionali, un coordinatore di area territoriale, un coordinatore di area ospedaliera, due per ogni ALS, quindi otto, con un costo complessivo di un milione e 600 mila Euro, che non sono previste da nessuna norma del contratto nazionale per la dirigenza medica, quindi un aggravio di spesa non giustificato, che si sovrappone a quelle che sono già le direzioni amministrative, sanitarie e generali di ogni azienda, e che alle quali si possa accedere soltanto con un'anzianità di 7 anni e con un master di secondo livello. Molti parlano della Bocconi, noi li definiamo due super pippo, noi organizzazioni sindacali, in un contesto in cui vengono tagliati gli incarichi dirigenziali, tutti i medici decadranno dagli incarichi dirigenziali, anche quelli che hanno un contratto in essere, in un contesto in cui viene decurtato di un milione di Euro la spesa per il personale, in un contesto in cui non vengono ancora recepite nel fatti le linee guida europee, le leggi europee per meglio dire, che dovrebbero obbligare tutte le regioni ad assumere nuovi medici per rispettare quello che è l'orario di lavoro, e che vi assicuro non è assolutamente rispettato. Contestiamo anche la formazione di dipartimenti che non hanno motivo di essere, nel momento in cui dovrebbero aggregare unità operative complesse che non esistono, quindi dovrebbero essere prima create le unità operative complesse e poi i dipartimenti, con nuove spese. Insomma, noi siamo contenti, per dirla tutta, di essere usciti dal commissariamento, purché questa uscita dal commissariamento non debba significare arbitrio, e temiamo che è quello che sta succedendo nella regione Abruzzo. Un'ultima cosa me la dovete lasciare dire. Io lavoro a Lanciano, sono nato a Chieti, ho lavorato tanti anni a Chieti, ma questo emendamento in Parlamento che è stato approvato, che esclude dal decreto Lorenzin le aree del cratere, porta in pratica che solo all'alzi di Lanciano-Vasto-Chieti sarà applicato il decreto Lorenzin. Io questo ritengo che sia una profonda ingiustizia, in un ospedale hub, soprattutto quello di Chieti, come ben sapete, è un ospedale che rischia di chiudere per greve deficienze strutturali. Noi stiamo lavorando assolutamente non in sicurezza, e il mio timore è che una scossa di terremoto possa creare l'immaginabile. Se i politici, invece di pensare al proprio tornaconto, al proprio orticello, capissero che è l'interesse di tutta la regione Abruzzo, secondo me dovrebbero essere più equilibrati e più obiettivi nelle loro decisioni. E taglio del nastro questa mattina a Vasto per il nuovo dei sargeri dell'ospedale San Pio da Pietrelcina. Nel 2016 a Vasto sono stati 1.400 gli interventi effettuati in regime dei sargeri. Vediamo. Un anno di lavori e 330 mila euro di investimenti da parte della Asl Teatina. A Vasto è stato tagliato il nastro della nuova unità operativa di dei sargeri dell'ospedale San Pio di Pietrelcina, insediata all'interno dei locali dell'ex centro di igiene mentale attivi al blocco operatorio. La nuova unità operativa ha a disposizione otto letti con nuovi arredi, ambulatori, locali di servizio e spogliatoi ad uso del blocco operatorio. La dei sargeri è stata strutturata come una unità operativa semplice dipartimentale nell'ambito della organizzazione aziendale e la responsabilità del reparto è stata affidata all'anestesista Filippo Marinucci, coadiuvato dal caposala Cosimo Pizzuto. Gli spazi lasciati liberi dal dei sargeri sono stati destinati all'osservazione breve in modo da alleggerire il carico sul pronto soccorso. Intanto abbiamo reso molto più funzionale il presidio sul comparto della rete di emergenza urgenza, dedicando il reparto del lobby al pronto soccorso, già corroborato dalla presenza delle medicalizzate da San Salvo all'interno del Vastese che hanno rafforzato la rete di emergenza urgenza. E in secondo luogo abbiamo dedicato un altro pezzo di lavori alla inaugurazione dei sargeri che non solo rappresenta oggi un ambiente più confortevole rispetto al precedente ma che è anche più sicuro poiché ha i reparti stessi molto collegati alla parte delle sargeri operatorie. Nel 2016 sono stati effettuati a vasto 1.396 interventi in regime di dei sargeri e 562 di tipo ambulatoriale nell'ambito dell'oculistica. Nel complesso sono stati 5.856 di interventi chirurgici. L'attività del dei sargeri è organizzata con un calendario settimanale che prevede due sedute di chirurgia generale, una di ostetricia, due di oculistica e alternativamente a seconda delle necessità una di ortopedia e urologia e di altri reparti che ne avessero bisogno. Altre prestazioni invece riguardano il posizionamento di accessi venosi per i malati oncologici. Le caratteristiche tecniche del reparto è un dei sargeri per cui qui saranno allocati tutti i pazienti che faranno degli interventi chirurgici diurni per cui entreranno la mattina e usciranno il pomeriggio. È un reparto con otto posti letto proprio dedicati all'attività chirurgica diurna. È un reparto completamente ristrutturato e viene diretto dal dottor Marinucci che è un nostro anestesista e per cui è direttamente collegato con la struttura complessa dell'anestesia e rianimazione anche se questa in realtà è una unità operativa semplice dipartimentale. Ed ora una notizia che riguarda il terremoto. Il Consiglio dei Ministri ha varato l'istituzione con la prossima manovra finanziaria delle zone franche urbane per i territori terremotati. È una misura assolutamente necessaria per accompagnare la ricostruzione con il rilancio del tessuto economico attraverso incentivi e sgrevi fiscali alle imprese e alle attività commerciali. È un provvedimento che richiedo da tempo e che avevo aspicato per le aree colpite dal sisma anche con l'ultimo decreto terremoto presentando in diverse occasioni appositi emendamenti. È quanto dice la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. Ora prosegue Pezzopane. Aspettiamo di vedere la declinazione del testo perché ci sia un'effettiva efficacia ma certamente l'annuncio del Governo ci vede soddisfatti. Importantissimo anche l'impegno di stanziamenti anno per anno pari ad un miliardo per far fronte alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016-2017 che vede colpiti molti comuni sia della provincia dell'Aquila che di quella di Teramo. E proprio a Teramo andiamo con il prossimo servizio. Raggiunto l'accordo preliminare per il recupero dell'ex ospedale psichiatrico Teramano di Porta Melatina per il quale il masterplan ha stanziato 35 milioni di euro dovrà diventare, grazie all'impegno dell'Università, una cittadella della cultura. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. L'ex ospedale psichiatrico di Teramo è una ferita aperta nel cuore dei teramani, una struttura la cui riqualificazione non è più rinviabile. Inoltre dopo gli ultimi eventi sismici e i danni causati dal mattempo è oggetto proprio in questi giorni di lavori urgenti di messa in sicurezza. Nel corso del tempo la cittadinanza ha assistito impotente al degrado di quello che è un vero e proprio pezzo di storia di Teramo. Importante non solo per l'uso a cui l'edificio era destinato, ma anche perché di fatto costituiva le mura della città antica dove si entrava attraverso Porta Melatina. Parliamo di 22 mila metri quadri di estensione su più edifici storici, con chiostri, cortili interni, giardini e la bellissima chiesa di Sant'Antonio Abate. Tutto in rovina. Oggi il masterplan ha stanziato per il recupero dell'ex manicomio di proprietà dell'Asel di Teramo 35 milioni di euro e ha designato l'università ente attuatore del piano. Proprio in questi giorni si stanno studiando i termini di un comodato modale attraverso il quale l'Asel concederà in uso all'Ateneo Teramano l'edificio di sua proprietà, che verrà completamente restaurato e destinato a un centro internazionale di cultura artistica e musicale. Dal canto suo l'Asel si riserva una parte dell'immobile per destinarla ad ospitare strutture territoriali espressamente dedicate ai pazienti psichiatrici. Un iter che si concluderà solo con l'approvazione finale del Consiglio Comunale. Già, se ancora ce ne sarà uno, e mentre la politica teramana si accapiglia su poltrone ed incarichi, ripicche e giochi di supremazia, la città, inutile dirlo ancora, cade a pezzi. Ed ora una notizia sempre che riguarda le scuole. Un monitoraggio continuo della situazione dell'edilizia scolastica, della sicurezza degli edifici e della programmazione in essere. A chiedere questa metodologia di lavoro è stato l'Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo. Ieri il consigliere delegato Mirco Rossi ha incontrato i dirigenti dell'ambito 4. l'incontro Teramo, Sant'Egidio, Nereto e Montorio. L'incontro di ieri è stata l'occasione per il consigliere di annunciare che è pronto il progetto esecutivo di sistemazione e miglioramento antisismico dell'Istituto Tecnico Comi e che quindi sarà trasmesso nelle prossime ore all'Ufficio Regionale per la ricostruzione e per la definitiva approvazione. Subito dopo andrà in gara per una spesa di 1.250.000 euro. Sono già in essere invece le procedure di gara per l'intervento sul liceo scientifico Peano di Nereto. In questo caso la spesa ammonta 1.020.000 euro. Pronta la gara anche per l'ITC Rosa, sempre a Nereto, con una dote di 1.300.000 euro. Indirittura ad arrivo l'esecutivo del progetto riguardante l'ultimo piano e il tetto del Convitto Delfico per 1.169.000 euro. In tutti questi casi, come per il Comi, tutti gli interventi hanno come obiettivo il miglioramento sismico. A Pescara la lista Teodoro è sul piede di guerra per il taglio di 22.000 euro nei fondi destinati al progetto Mi Impegno per Pescara, promosso proprio dalla lista Teodoro, che soldi che sono andati a finire nel progetto Nonno Vigile. Contro questa delibera di giunta si scaglia il consigliere comunale Massimiliano Pignoli. Ascoltiamo il servizio di Francesca Romana Testi. Dei fondi che vengono tolti da un progetto per i meno abbienti e allora si parla anche di bloccare il Consiglio Comunale. Si parla di 70 persone. I dati quali sono? Io ho ideato questo progetto, che è il progetto Mi Impegno per Pescara, che poi è stato votato all'unanimità dal Consiglio Comunale per cercare di far lavorare queste persone bisognose che quotidianamente ovviamente vanno alla ricerca di un posto di lavoro, persone che hanno figli, persone che vivono la difficoltà di un tumore e quant'altro. C'è stato un regolare bando, sono state prese 70 persone che attualmente lavorano all'interno del Comune di Pescara, chi nei musei, chi fa gli usceri, chi all'interno dell'Aurum, chi presso lo stadio Adriatico, chi presso la viabilità. Vengo a scoprire da una delibera rigiunta fatta l'altro ieri che c'è stata in un'iniziativa da parte del Sindaco che ha revocato 22 mila euro, quindi questi soggetti non finiranno a fare questo progetto, a favore dei nonni vigili, per far attraversare i ragazzi sulle strade. Perché questo? Per i bambini sulle strade? Perché noi come progetto avevamo previsto l'acquisto di voucher per l'intera durata del progetto stesso. Invece per i nonni vigili, praticamente, l'acquisto dei voucher avveniva mese per mese. E siccome il Governo ha tolto i voucher, arrivato a questo punto si sono trovati nella impossibilità di poter continuare questo servizio. Allora dico io, siccome manca un mese alla fine della scuola, i nonni vigili alla fine comunque sono persone pensionate, perché la domanda la possono fare soltanto persone pensionate, che comunque eventualmente prendono quelle 500-600 euro di pensione minima. Arrivato a questo punto, io dico che bisogna eliminare e tornare indietro e il sindaco deve annullare la delibera e rimettere i soldi a queste persone bisognose. Che cosa accadrà se non lo farà? Semplicemente una cosa, bloccheremo i lavori del Consiglio Comunale. A Chieti, ascensore tunnel pedonale sotto il tiro della polemica politica sollevata dal Partito Democratico. l'eterna incompiuta teatina rischia di restare tale. Le problematiche di quest'opera sono state illustrate questa mattina in una conferenza stampa. Ascoltiamo l'intervista ad Alessandro Marzoli. Marzoli, voi parlate di incompiuta teatina, parliamo di questo ascensore che avrebbe dovuto collegare la zona alta con la zona bassa della città. Perché i lavori sono fermi e perché parlate di incompiuta? Alla vigilia di un appuntamento importantissimo dal punto di vista anche emotivo per la comunità teatina come la processione del venerdì santo, ci troviamo ancora una volta a denunciare quella che è effettivamente l'incompiuta della città di Chieti. Una struttura che collegherebbe il terminal del Gran Sasso, cioè il punto di arrivo degli autobus Piazzale Falcone e Borsellino con il cuore della città, del centro storico che già dal 2009-2010 doveva essere completata e ci troviamo a distanza di quasi dieci anni dall'inizio di quella realizzazione a non avere ancora una struttura completa e inaugurata. Abbiamo presentato nel corso degli anni diversi documenti in Consiglio Comunale un'interrogazione a settembre 2016 in cui l'assessore ai lavori pubblici della Giunta di Primio si era preso il solenne impegno di inaugurare questa struttura per Pasqua 2017. Oggi la situazione del cantiere è questa, è impossibile parcheggiare in quest'area è impossibile accedere al centro storico e questo causa gravi danni anche alle economie teatine. L'idea del tunnel era quella di aumentare la possibilità di parcheggiare non a ridosso del centro storico e salire agevolmente nel cuore della città e in termini di facilitazione della mobilità, di traffico sostenibile, di qualità dell'area di snellire l'impatto del traffico su Chieti, questa era l'opera giusta. Nonostante ciò sembra tutto dimenticato e i quasi 3 milioni di investimento ad oggi non sono stati ancora messi a frutto e questo per noi è inaccettabile. Ed ora una notizia di cronaca. Appena ventenne era solita percuotere i genitori con calci e pugni se le rifiutavano denaro giungendo a minacciarli anche di morte. Proprio per questi comportamenti aggressivi era già stata allontanata dall'abitazione familiare nell'aprile del 2016 con provvedimento del Tribunale di Teramo con divieto di dimora nello stesso comune dei genitori o comunque divieto di avvicinarli. Nel pomeriggio di ieri l'arresto per maltrattamenti in famiglia, estorsione, lesione e danni dei propri genitori per avere opposto resistenza a pubblico ufficiale. Ne è stata sorpresa dagli agenti a destorcere 40 euro al padre e alla madre durante l'ennesima lite. Flashmob a Pescara per ricordare le vittime di Rigopiano. Si terrà il prossimo 18 di aprile organizzato dal Comitato delle Vittime in memoria delle 29 persone morte sotto le macerie dell'albergo travolto da una valanga il 18 gennaio. Flashmob intitolato Rigopiano tre mesi dopo. Il ritrovo sarà in Piazza della Repubblica vicino alla stazione di Pescara Centrale alle 16.15. Da qui un corteo arriverà in Piazza della Rinascita dove i familiari e gli amici formeranno un grande cerchio umano. Quindi alle 16.48, ora presunta della valanga, squilli di tromba con il silenzio d'ordinanza che annuncerà l'arrivo dei bambini. Come dei candidi fiocchi di neve, annunciano i promotori, indosseranno una t-shirt bianca colore della purezza della neve. Al suono della tromba tutti i bambini correranno verso il cerchio come corse la valanga sui cari dei familiari perché la neve e la natura non sono i responsabili della morte delle persone che hanno perso la vita a Rigopiano. Alle 16.49 il programma prevede il cerchio della vita sulle note della canzone di Ivana Spagna. L'Istituto Artistico Misticoni Belisario di Pescara è stato oggetto di lavori di adeguamento sismico che consentiranno anche di aprire nuovi spazi a disposizione della cittadinanza per attività culturali. Questa mattina l'inaugurazione dei locali con uno spettacolo è organizzato dagli studenti. Vediamo. Al Misticoni Belisario c'è aria di novità soprattutto in ambito di sicurezza e si parla di quelli che sono stati i lavori di adeguamento ma anche di altre novità. Noi abbiamo avuto un finanziamento su scuole d'Abruzzo di 250.000 euro che era stata programmata nell'amministrazione provinciale precedente alla mia gestione e noi abbiamo avuto poi la possibilità di vedere finanziato questo intervento e dal 2015 in poi abbiamo provveduto a fare il progetto e quindi la cantierizzazione dell'opera. La nostra scuola è una scuola a cui finalmente è stata restituita una parte molto importante sia la parte dell'aula magna, aula polifunzionale e sia la parte dei laboratori di stampa e di serigrafia. Da una parte è la parte artistica e quindi con mostre, eventi, la parte musicale e la parte coreutica con il balletto. La nostra intenzione è aprirci anche al territorio, quindi fare in modo che questi spazi siano dati proprio anche alla cittadinanza nel senso che la scuola potrà organizzare anche degli eventi magari pomeridiani che potranno quindi far venire come ospettatori oppure attori, quindi partecipi, anche enti e associazioni presenti nel territorio. Noi abbiamo avuto la possibilità di realizzare quest'opera anche perché oltre ad aver approvato i due bilanci precedenti, il 15 e il 16, ma abbiamo potuto farlo proprio sforando il patto di stabilità nel 2015 che ci ha consentito poi di avviare tutta la progettazione, la programmazione e l'appalto necessario per intervenire nelle scuole. I comuni di Orsogna e Campobasso in Molise hanno presentato a Pescara un progetto turistico-culturale per il riconoscimento dei talami di Orsogna e dei misteri di Campobasso quali patrimonio immateriale dell'UNESCO. Le due manifestazioni sono già riconosciute dal Ministero del Turismo come patrimonio d'Italia per la tradizione. Vediamo. Patrimonio immateriale dell'UNESCO, si parla dei talami di Orsogna in questo caso e allora c'è anche una comunione insieme ai cosiddetti misteri di Campobasso. Un'unione che vuole portare più attenzione. Come si svolgerà? Abbiamo trovato un forte collegamento con i misteri di Campobasso che ricordiamo che è una festa che si fa il Corpus Domini anche perché hanno delle similitudini a livello di organizzative. Loro hanno 13 misteri che però sono sempre gli stessi noi invece abbiamo 6 talami che di anno in anno in base all'argomento che quest'anno non si vive di solo pane cambiano quindi con personaggi nuovi, scene della Bibbia nuove per cui ecco io credo che questa bisogna tornare alla tradizione è per un, per chi ci crede, per un ritorno a quella che è la cristianità i valori veri dell'uomo, è per la tradizione, per la cultura che sono uniche e quindi noi possiamo e dobbiamo assolutamente presentare ai nostri turisti a coloro che vengono da fuori regione e da fuori Italia un qualcosa che non potranno vedere in nessun'altra parte del mondo. Quando si svolgerà? C'è un appuntamento che in qualche modo richiamerà più attenzione? Per noi dei talami il 18 di aprile, il martedì dopo Pasqua per cui ecco abbiamo ripristinato il lunedì sera alla veglia di preghiera dove ecco si ricorda questa specie di miracolo della trasfigurazione dell'effigie della Madonna da Madonna nera in Madonna con un volto chiaro e il martedì con i talami, con tutta la sfilata dei talami, dei sei talami più dopo abbiamo ripristinato il piatto tipico dei talami e poi il pomeriggio con la processione e con lo sbandimento dei doni votivi che la gente all'epoca dava proprio per in onore della Madonna del Rifugio. Diciamo che con i misteri poi di Campobassi noi procederemo alla redazione di un protocollo d'intesa faremo quindi delibere dei consigli comunali proprio per arrivare poi al 24 giugno che è la data di scadenza per partecipare al bando nazionale delle Melaviglie d'Italia. Ed ora passiamo alla pagina dello sport iniziamo dalla Lega Pro il Teramo prosegue la preparazione in vista del match decisivo sabato al Bonolis contro il Forlì davvero una finale, uno spareggio salvezza per il Diavolo noi andiamo ad ascoltare a proposito le parole dell'esperto centrocampista Stefano Amadio. Non possiamo far altro che pensare al Forlì che diventa una partita fondamentale e quindi nonostante comunque c'è grande rammarico siamo già motivati per la gara di sabato ma guarda ti dico penso di poter fare molto meglio sia come singolo che come alliato di squadra però in questo momento possiamo pensare a noi singolarmente la prima cosa è la squadra è chiaro che se migliorano le prestazioni di squadra si esaltano anche i singoli credo l'importante però è cogliere la salvezza più presto ma sì ma penso che al di là di quello abbiamo lavorato un po' più sulla testa perché poi puoi tutta qualsiasi modulo ma se in campo non metti determinate cose non va bene qualsiasi modulo comunque sì è vero pure che da quando ci siamo messi col 4-4-2 si è vista una squadra diversa secondo me sì è uno sparticacque importante perché è uno scontro diretto è una sfida che secondo me vale doppio anche perché secondo me vincendo sarebbe un bel passo in avanti perdendo ti scavalcano e potresti perdere altri punti contro le dirette concorrenti quindi sì è una sfida decisiva la prepareremo al meglio e dobbiamo cercare assolutamente di vincere ma quello passa sempre per i risultati io penso che dovremmo pensare una partita a volta ci dobbiamo concentrare sul 4-0 è chiaro che secondo me standoci qualche scontro diretto anche il Modena, anche il Mantua ce ne ha se tu riesci a fare i punti puoi agganciare anche il Modena o quelle leggermente più su però è importante uscire dai play-out secondo me magari è una situazione nuova per qualcuno di noi però ho passato anche anni in cui ho dovuto lottare per non retrocedere quindi insomma fa parte del gioco bisogna affrontarla allo stesso modo anzi con più cattiveri ancora Chiudiamo con una notizia di ciclismo ufficializzato questa mattina il tracciato dell'edizione numero 28 del Giro d'Italia Internazionale Femminile Elite in programma dal 29 di giugno al 9 di luglio prossimi è valevole come prova del Women's World Tour 10 le tappe previste tra cui quella di Roseto degli Abruzzi partenze d'arrivo nella stessa cittadina di 116 km riservata alle velociste questa era l'ultima notizia anche per l'edizione della notte del TG6 i prossimi appuntamenti con le nostre informazioni sono domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa di mattino 6 e poi con il TG6 delle 14, delle 19 e delle 23 grazie per essere stati con noi buonanotte